Buongiorno, ecco le previsioni meteorologiche per il fine settimana dai 20-21 luglio 2019 in Piemonte. Sabato, un promontorio dell'antisciclone dell'Azzorre determinerà condizioni di tempo prevalentemente solleciato sul Piemonte. Tuttavia ci sarà sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi aipini e praipini, associata a rovesci e temporali deboli o moderati. Lo zero termico sarà in lieve aumento da 4100 a 4300 metri e anche le temperature avranno un leggero riaizzo. I venti saranno deboli o localmente moderati da ovest sulle Aipi, da sud sull'Appennino in pianura. Domenica l'anticiclone sarà in ulteriore rinforzo sull'area mediterranea, quindi il cielo sarà in prevalenza solleciato sul territorio piemontese, con locali cumuli sui rilievi aipini e le ore più caide, associati a deboli rovesci. Lo zero termico sarà un ulteriore aumento fino a 4500 metri, e anche le temperature avranno un nuovo reggero riaizzo. I venti saranno deboli e localmente moderati da ovest e nord ovest sulle Aipi, ed a sud sui altri settori. Con questo è tutto, per ulteriori informazioni consultate i nostri siti internet o le nostre applicazioni.